Oh, Doniziani, che succede? Che succede? Non vedo più niente, ma perché? Allora, in teoria questa dovrebbe essere la serie vanilla, ma cosa sta succedendo? Ma poi avete sentito quello strano rumore all'inizio? Era una specie di... non so nemmeno descriverlo sinceramente. Ma allora, prima di tutto, voi sapete che in questa serie stanno succedendo cose molto strane, purtroppo. È una serie vanilla classica, infatti qua stanno entrando persone, ma come potete vedere qua è pieno di cose enormi, che sono... è come se tipo dei tentacoli fossero... si fossero, diciamo, staccati dal terreno e fossero usciti. E cose di questo tipo. Poi qua ci sono le case degli altri giocatori, quella è la mia che fa un po' schifo, purtroppo, ahimè. Forse dovrei, non lo so, costruirla un po' meglio, però guardate, questa è la casa di uno... di queste persone, molto brave, è uno dei miei amici. Voi lo sapete, no? Li conoscete, Angelo e Chiara. Eh, che casino, ma scusatemi! Eh, non è possibile. Ma poi, tanto, scusatemi anche se parlerò più basso in questo episodio, ma... e sono tipo le 12 di notte e io sto registrando a quest'ora. Vabbè, a volte purtroppo capita nella vita, no? Però, cosa ci vogliamo fare? Purtroppo, cioè, nel senso, dobbiamo andare avanti, no? E... per forza. Questa, invece, è la casa di Gabri. Ah, guarda che bella è la casa di Gabri, mamma mia. E poi quello sciocchino, per non dire qualcos'altro. Eh, boh, non so, vediamo se l'ha completata. Io, io, che entro qua dentro. Oh, non la comp... come si permette di non completar... Non, non, non va bene, non va bene questa cosa. Come si permette di non completarla? Gabri! Puzzò, guarda che sei una foca grassa, eh, ricordatelo. Ma io verrei sciocco basito, completamente. Allora, scherzo, chiaramente, per chi, per chi non l'avesse capito. Allora, praticamente, oggi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a cercare delle caverne. E, sottoterra, magari chiamerò, tipo, qui in là nel video, se arriva, una mia amica. Altrimenti, vabbè, chi se ne frega. Facciamo anche senza di lei, tanto... Tanto non è che ci... C'è un senso, meglio senso... Ah, veramente, quanti amici, basta, basta, basta. Ne ho troppi di amici, è su, adesso... Adesso basta, vado a vivere come un'erenita su una montagna e non ne voglio più sapere niente. Io sono stufo. Io non voglio più avere niente a che fare con nessuno. Vabbè, sono anche scemo... Cioè, vabbè, scusatemi, sono le 12 di notte. Ah, là ci sono due coccodrilli, guardateli che belli. Come dite, non sono coccodrilli, ma come no? Vabbè, sono lì, li vedete? Eh, non potete dirmi che non sono... Dai, li vedete pure voi. Ma su, ma... Oh, ma non li vedete che sono coccodrilli. Ah, veramente, cioè... La gente che non sa nemmeno distinguere i coccodrilli da altre specie di animali. A me sembrano assolutamente coccodrilli. Vabbè, a parte che in Minecraft è normale, eh, però... Volevo dire... Scherzo. Ah, e sono caduto perché sono sciocchino. Alla fine, però, siamo... Abbiamo trovato la caverna. Allora, adesso io direi di... No, le torce ce le ho, quindi non me le devo craftare. Poi, nell'inventario non si sa perché ho una serie di cavolate assurde. Veramente troppo assurde. Cioè, non va bene avere tutte queste cavolate. Veramente, duniziani, ho troppe cavolate. Questa cosa non va assolutamente bene. Allora, qua cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a trovare... Spero altri diamanti, dai, come al solito nelle mie... Signor Ragno, come si permette di esistere qua? Ma io non ho l'armatura in ferro. Ma io ce la... Cioè, nel senso, avevo il ferro perché non me lo son craftata. Sono stupido. Cioè, allora, sono stupido? Ditemelo! Non lo so! Gian Giuberto! È colpa di Gian Giu... Lo sa... Voi sapete che Gian Giu... È un... Un demonio! Una roba orribile! Vabbè, insomma... Questo rumore in sottofondo è stata una persona... Veramente orribile che è crashata. Io non so chi sia stato comunque. Secondo me è stata quella amica che... Alla fine non è arrivata. Probabilmente qualcuno gli avrà staccato la rete. Non lo so. Magari che ne so. Sarà entrato un ladro in casa. E questo ladro in realtà era un ma... Un attimino, eh. Che mi stanno anche scrivendo, fra l'altro. Allora, duniziani si è aggiunta anche una nuova persona che... Non parlerà perché purtroppo ci sono problemi... Audio molto rilevanti. Però... Io mi sono craftato intanto un'armatura perché ho visto che... Da scemo non avevo visto. Però avevo il ferro nell'inventario. Allora, Fede. Visto che ci sei ti do un incarico. Scava questo carbone. Io... Io mi addentrerò nelle profondità più profonde di questa caverna. Per trovare i diamanti. Si spera perlomeno. Anche perché... Gli obiettivi... Allora, scusatemi un attimo, duniziani. Voi, nelle caverne, scrivetemi, eh. Nei commenti. Perché ci andate? Per trovare tipo il ferro o altre cose? Non so pure per trovare i diamanti. Secondo me, il fine ultimo di andare nelle caverne è assolutamente trovare i diamanti. Ah, Fede. Tu vai solo per i diamanti. Eh, beh, lo so, lo so. Ma anch'io, eh. Cioè, ti capisco perfettamente. Infatti anch'io. Prendi questo ferro che male non fa, assolutamente. Allora, vediamo un attimo che cosa c'è qua da queste parti. A me sembra... A parte che sembra tutto quanto troppo buio. Qua, in queste profonde, oscure caverne, ci possono essere pericoli inimmaginabili. Siamo nella 1.17, come potete vedere, assolutamente. Sì, sì. Comunque qua è pieno di mob che non voglio minimamente. No, no, no. Per l'amore del... Eh. Che casino. Eh, vabbè. Ho fatto esplodere. Mi scusi, mi scusi. Non volevo. Non volevo fare... No, 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 raga. Qua è... No, è un casino. È un casino. È un casino. È un casino. Aiuto. Aiuto, dunisiani. Dunisiani. Eh, sì. Tutto bene. Minimamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Ehm... Ok, perfetto. Ora sto meglio. Sto meglio. Sto meglio. Però lì, insomma, è un po' pieno di scheletri. Come avete potuto ben vedere. Purtroppo non è... Non è il caso di andarci. Oppure sì. Rischiamo la vita. Vai, 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 vai. Andiamo, andiamo. Ah, che sei morto subito. Stupido. Ignorante. Come ti permetti? Io vedo questi scheletri che cercano di uccidere Dunis. Cioè, scusami. Tu sai chi è Dunis? Veramente? Secondo me non sanno chi è Dunis. Cioè, veramente? Che stupidi ignoranti, veramente, questi scheletri. Cioè, Dunis. Vabbè, per ora è... È un tiktoker da 60.000 follower. Ma sarà sicuramente uno youtuber da un milione di follower. Questo sì, sicuramente. Facciamolo finire, no? Non ho parlato perché chiaramente il creeper doveva fare la sua baldoria come al solito. Doveva esplodere, doveva fare casino, doveva fare... Eh, cioè, Fede, che ridi che fa tipo... Che ridi tutta così, no? Eh, cosa ridi così? Come una stella. Beh, puzza! Beh, ma guarda te questa puzzona, puzzacchiona, rimpuzzona, spuzzipampona. Io non ridi... Tu non ridi così? Tu ridi come... Come una strega del bosco oscura, dei demoni infernali che arrivano dall'oltretomba. Ecco come ridi tu. Madonna mia. Sembra un po' pazza. Mamma mia bella. Sì, troppo bello. Troppo bello per essere vero. Scusa, che cosa è successo alla mia voce per un attimo? Vabbè. Fatemi fare perché sennò qua si muore purtroppo. Poi, invece, nel senso non è... Io non ho più la capacità... Io sono un vecchio ormai, non ho più la capacità di una volta. Una volta ero giovane, una volta potevo parlare. Ora è me, purtroppo. A volte, purtroppo, succedono queste cose, soprattutto quando si invecchia, quando si hanno 18 anni. Sono troppo vecchio. Fede, Fede, io sarò... Andrò in pensione ormai. Sì, sì, è proprio così. Beh, se io sono vecchio, però, tu sei ormai nella tomba, cara mia, mi spiace. Non ho detto niente, non ho detto niente. Oh, qua ti dovevi arrabbiare. Cosa hai fatto? Tu, schifosa, come ti permetti di fare un danno così ingente? Che sarebbe grande, Dunisiani. Alla caverna di Dunis. Hai rotto tutto. Adesso, adesso, guarda, per punizioni ti becchi questo fungo nel sedere, però. Allora, dobbiamo cercare una nuova caverna, quindi Dunisiani ci ritroviamo fra poco. E guarda cosa ho trovato qua! Mamma mia. Allora, andiamo... In teoria qua, allora, ho scavato, ho visto qualcosina, eh, ma non ho visto troppo. Comunque non si vede un cappero fritto di niente, proprio. Ma ho trovato proprio una ca... Cioè, se posso dirlo, Dunisiani. Ho proprio trovato una cavolata, ma una di quelle grosse, no? Che tipo, non sai cosa fartene. Ok, allora, qua c'è un po' di... Di... Come dire, di... Di aria. E comunque, se mi sentite che parlo basso adesso, in questo momento, è perché, purtroppo, ahimè, sono le 12 di notte. Eh, beh, ma capita, purtroppo. Non vorrei svegliare nessuno. Anche se, in realtà, ormai penso di averlo già fatto ampiamente. Purtroppo. Eh, ahimè. Però, per fortuna che il microfono è vicino e voi mi sentite comunque, Dunisiani, perché voi avete delle orecchie, che proprio manco i lupi mannari, cioè. Beh, insomma, allora, 0,30. 0,30 è un dettaglio, cioè, mi sembra irrilevante. Ma, Fede, purtroppo ti devo informare che io ho trovato i diamanti. Eh, 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 eh. E quindi, l'obiettivo l'ho ampiamente concluso, Dunisiani. Io posso dire di essere la persona più fortunata di questo pianeto. Anche se non è vera questa cosa, perché purtroppo mi capitano spesso delle sfortune. Anche delle corbellerie. Però, insomma, lo dico per chiarezza, con fermezza, in totale sicurezza. Che, beh. Ah, vedete, qua si connette pure. Avete capito voi? Ah, vede, ha fatto tutto il giro la caverna. Era praticamente qua, vedete? Porca miseria. Scusa, no, me l'aspettavo. Allora, carissima Federica, vieni un attimo qua, perché non so dove caspita sia andata, veramente. Cioè, io sono scioccato da te stesso. Cioè, da... eh? Cos'è che ho detto? Da... da te? Nel senso... Ah, sei sopra l'acqua. Eh, mi immergi, ti brutta scrofo. Cioè, nel senso, eh, eh, entra in l'acqua, veloce. Ok, va. Devi premere CTRL per notare. Se nel caso non lo sappia. CTRL, CTRL e W anche. E fai così. Uhuh. Vedete, dunzioni, in questi video c'è anche il tutorial di come si nuota, ma Federica non lo sa fare, purtroppo. Guarda qua, cosa c'è? Prima di domani mattina. No, scherzo. Allora, qua c'è un bel po' di oro. Prendilo, perché questo oro è utile, no? È utile nella 1.17 non mi dire che non è il piccone d'oro. Non mi di... oh mio Dio. Un attimo che devo mangiare. Craftiamo questo piccone di ferro. Devo dire che lo puoi tenere questo piccone di ferro, Federica, perché chiaramente ti sei meritata assolutamente questo... Questo premio per essere venuta in miniera con me. E... Direi che te lo puoi tenere, assolutamente sì. Cos'è che c'è scritto? Ah, grazie, cuoricino. Ma... Come no? In realtà sappiamo benissimo che tu a mi solo è solamente Chiara. Vabbè, insomma, lasciamo perdere perché sennò qua si creano ship veramente orribili. Scherzo, sono bellissime queste ship. Soprattutto voi, duniziani, ditemi se vi piacciono le ship oppure no. A me piacciono, sinceramente. Io preferisco Gabri. Cosa? Tu e Gabri... No, Gabri però ama Angelo. Questa cosa non è possibile. No, aspetta, Angelo ama però Samu. Porca mia... Eh, ci sono troppe ship duniziani. Questa cosa... Non si capisce più chi ama chi. Cioè, c'è troppo amore in questo gruppo. Vabbè, però... No, 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 assolutamente no. Questa cosa... Assolutamente no. Eh, no. Tu, tu ami... Tu ami tutti. Tu vai un po' a letto. Sei una... Una persona di facili costruite. No, scherzo, scherzo. No, adesso mi ammazzo, duniziani. Mi ammazzo, mi banna dal... Dal mio stesso server, però. Aiuto. No, no, scherzavo, vediamo. Insomma, siamo amici, no, no. Non te la prendere così. No, no, no. Aiuto, no, no, no. Vabbè, duniziani è stato bene. No, 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 duniziani. È stato bello, io direi di finire questo video Prima che mi ammazzi. Eh, no, 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 no. È la fine, la fine. No, no, duniziani. Duniziani, devo andarmene. È stato bello, duniziani? Eh, lasciate like, mi raccomando. Iscrivetevi a questo canale, mi raccomando. Eh, madonna mia. Quale minaccia buona. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.